Avrà un volto nuovo l'ecomostro che vedete alle mie spalle. Siamo a pochi passi dalla playa di Catania e tra un mese inizieranno i lavori della demolizione di una struttura abbandonata da dieci anni che in passato era stata utilizzata come colonia dalle figlie di Maria Usiliatrice. Stamani sono stati anche consegnati i lavori alla ditta che si occuperà appunto della demolizione e sarà una demolizione settoriale cercando di recuperare tutto il materiale che potrà essere così riutilizzato. Si tratta sicuramente di un momento importante soprattutto per poter ridare così dignità a quello che ormai si era trasformato anche in un ricovero per extracomunitari in una struttura che era spesso vandalizzata. Ai nostri microfoni a spiegarci poi i dettagli di questo intervento è stato il dirigente dell'ufficio demanio marittimo di Catania, Gaetano Simili. Noi come ufficio del demanio marittimo abbiamo fatto sì che si realizzasse un patto tra il pubblico e il privato, quindi il privato si assume l'onere di abbattere questo ecomostro dopodiché avendo in concessione l'area demaniale costruirà, costruiranno nella parola esatta diciamo che realizzerà uno stabilimento balaneare innovativo, quindi tutto amovibile per cui a fine stagione la spiaggia sarà libera, fruibile e non vedremo delle brutture così come oggi siamo stati abituati a vedere fino adesso. Quando saranno al lavoro le ruspe? C'è già una scadenza, una data? Le ruspe probabilmente saranno al lavoro da qui ad un mese perché l'azienda inizierà prima togliendo le parti che potranno essere avviate al riciclo ma soprattutto prima bisognerà togliere l'amianto che costituisce un pericolo di inquinamento molto forte. Più servizi e meno cabine dunque per questa porzione del mare di Catania che in questo modo diventerà veramente un punto di riferimento non soltanto per i cittadini catanesi ma anche per tutta quanta l'isola. Con noi dobbiamo riuscire a rigenerare luoghi come questo per il benessere dei cittadini innanzitutto perché questo è un luogo di benessere dei catanesi e dei siciliani e c'è una volontà politica precisa dell'amministrazione regionale di andare incontro alle istanze numerose ormai dei cittadini perché ormai non è soltanto l'associazione ambientalista o altro, questa è una questione ormai di cambiamento di mentalità che colgo giorno dopo giorno nelle persone e nei siciliani.